Buon Natale della Collegia Rossa, ragazzi, come state? Allora, prima di rimpinzarci e ritornare al tavolo come amici e parenti like, condivisione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e fatemi questo regalo di Natale mi sarei veramente felice Allora, c'è da parlare della partita di domani, ma parlerò veramente poco, eh perché io volevo parlare anche dei risultati della Serie B perché comunque sono stati abbastanza clamorosi Da notare che in questo momento i ragazzi, i mister, i ragazzi e tutto lo staff stanno lavorando a Natale per la partita di domani, contro la Reggiana, che si gioca due giorni e mezzo e dico, FIGICI o Serie B, KT, chi vuoi che sia? No, evitatela questa cosa a parte, cioè dopo tre giorni, preparare una partita, nelle feste, è un po' vergognoso è un po' vergognoso, per questo io non prenderò tanto la Reggiana o quanto noi perché io, se devo mettere una schedina, X fisso secondo me le due squadre non saranno pronte né a vincere né a perdere né a pareggiare cioè nel senso, non sono pronte a fare questa partita, cioè è un po' così no che non sono pronte, però nel senso che giochi a Santo Stefano in queste condizioni ha giocato tre giorni fa, quindi io mi verrebbe da dire X fisso, proprio così 1-1, 0-0, perché magari nessuna delle due vuol perdere perché comunque rischi di buttare veramente una partita Comunque, Reggiana che la scorsa partita avviene da una vittoria una vittoria contro il Suttiro al Twinite a 2 e fare il tricolo al Suttiro, la becca al cammino allenatore, non è tanto facile ultimamente Cittadè sta andando veramente a bomba 4-1, Parma, lo sappiamo, 3-1 ha fermato la Ternala dopo che era in positivo altra partita del Palermo 3-3, una roba contro il Como cioè, ci sono degli alti e bassi comunque dappertutto ragazzi non soltanto noi, che noi l'unica cosa che non facciamo è pareggiare abbiamo pareggiato solo tre mi sembra Cremonese che era la prima, sai, non si può sapere Cittadella appunto in casa e il Bari 2-2 Niente, poi Venezia, Lecco che in questo momento è Venezia si andrà anche un po' a arrancare, 2-2 La Cremonese che dopo che ha fatto la brutta figura con la Feralpi poi ora mi va a vincere contro il Modena 4-0 Feralpi che vince a Genova 3-2, quindi contra la Samp, non è roba, anzi Bari Cosenza, Cosenza che non vince da più di cinque partite, mi sembra, non ricordo Questa è clamorosa In due settimane, incrocio tra noi, quindi Catanzaro, Pisa e Ascoli Battiamo il Pisa in casa 2-0 Andiamo ad Ascoli, perdiamo 1-0 Ascoli va a Pisa che perde 1-0 Quindi Pisa vince 1-0 Questa Serie B è clamorosa Dobbiamo dare al mister Bisogna salvarci, non c'è altri sistemi Cittadella così nell'ultime cinque in a vinte e quattro È la squadra più in forma del campionato in questo momento Parma nonostante tutto non perde comunque Perché nel senso nell'ultime cinque in a pareggiate tre e vinte e due Venezia, come detto, nell'ultime cinque Anzi, i progettivi, nell'ultime tre ne ha persi due e pareggiata una La Cremo, a parte questa debacle della Feralpi Aveva fatto praticamente tre vittorie, un pareggio e appunto questa sconfitta Anche il Como viene dalla sconfitta e un pareggio Noi tre vittorie e due sconfitte Palermo secondo me devono guardarsi un pochino dentro loro stessi Perché non so se è anche parte colpa loro, dell'allenatore Perché comunque fai tot i risultati Come attacco non vanno neanche male 29 gol Ma 21 subiti Oddio anche noi Anche noi siamo la solita cosa più o meno Anche noi siamo lì 23 subiti Quindi differenziati di cinque Nel fondo basso invece Qui sembra tornato ad essere tutto di nuovo in corsa Perché Feralpi ne ha fatte due vittorie Nell'ultime due Spezia sembrava avesse trovato le vittorie invece torna a perdere Ascoli ha vinto solo con noi Sostanzialmente Il Lecco Trappareggite e sconfitte La Ternana era da tre vittorie e poi mi va a perdere È un po' È tosto Ora io magari faccio un po' video riguardo A gennaio a questo punto Anche perché ce la farei post partita Appunto di Reggiana Andiamo a Reggio Emilia Comunque al Mappai Stadium Ce la farei anche quello Farò Un voto generale a noi Ma Anche un po' a tutta la Serie B Questo giugno è andata Come Come è andata Vabbè ragazzi Andiamo Andiamo a questo giugno di Natale Domani ci vediamo Il Catanzaro Ancora davanti A un tavolo A mezzogiorno e mezzo Va bene Like Condivisione Commentate Condividete Campanella Iscrizione Comando Regalo di Natale E non vi ricordo più Ciao